Sono un fan dei Simpson da quando furono trasmessi per la prima volta il primo ottobre del 91 su canale 5 Tra tutti quello che preferisco è Homer Simpson Tanto che su questo canale ho realizzato altri due video dove ho provato a rendere reali altre due invenzioni di Homer Simpson Oggi proverò a costruire la poltrona qualetto Uomo pigro E fare in modo che sia anche funzionante Mi aspetta una grossa sfida Il problema è come faccio a far entrare un water in una poltrona Potrei smontare il water e metterlo in una poltrona Ma per funzionare il water ha bisogno di essere collegato alla fogna Altrimenti tutto quello che finisce nel water ce lo ritroviamo per terra E non credo che sia una cosa bella né da vedere né da sentire Per realizzare questo progetto ho bisogno di due oggetti Uno, il cesso Due, una poltrona Sono in contatto con una persona che sta vendendo una poltrona Gli ho scritto ieri Ma mi ha risposto dieci minuti fa Leggiamo insieme cosa mi ha scritto Ehi, scusami tantissimo Ma mia nonna mi ha appena informata che l'ha già venduta Non abbiamo la poltrona Bene, ottimo Partiamo col botto proprio Durante il tregitto incontrerebbe delle difficoltà Ma la cosa importante è partire bene E noi stiamo partendo bene Per fortuna ne ho trovato un'altra Tra 25 euro Ed è stato un vero colpo di fortuna Perché questa è molto più simile a quella di Homer Simpson Mettiamoci al lavoro Dobbiamo solamente scoprire com'è la struttura di questa poltrona E come possiamo fare a scoprire la struttura di questa poltrona? Semplicemente togliendo questi cuscini Togliamo prima questo La struttura sembrerebbe tipo vetro resina o qualcosa del genere Che materiale è? Cioè se io passo con l'unghia, per esempio Lascio il segno Scrivetemelo nei commenti se sapete che materiale è Ma la parte più importante si nasconde qui sotto Perché è qui che dovrò montare il water Quindi togliamo questo cuscino Attenzione alle stelle L'attenzione è palpabile La puoi toccare con le mani Ta-da Devo essere onesto Non ho capito se è un bene o un male Io mi preoccupavo di trovare delle molle o del legno Ma non tutte e due Cioè come faccio adesso io a Crearmi uno spazio per poter metterci un water qui sotto? Più la plastica in realtà Comunque Fin quando non avrò tra le mani un bagno chimico Per poter vedere bene le misure e capire come inserirlo lì sotto Alla fine sto parlando, sto parlando Ma sto parlando di aria fritta Ora è evidente che non posso fare i bisogni direttamente qui Quindi andiamo a prendere un bagno chimico Ma come faccio a far entrare un bagno chimico dentro ad una poltrona? Dovendo tenere questa poltrona dentro casa Dovrà sembrare una normalissima poltrona Quindi credo che la soluzione che andrò ad utilizzare Sarà quella di usare quei cessetti chimici portatili Sperando di riuscire a farlo cacciare all'interno della poltrona Ne ho trovato uno a 30 euro e dovrebbero consegnarmelo oggi Bene, abbiamo il cessetto Quindi adesso possiamo metterci Iniziamo a costruire questa poltrona toaletta Esatto, adesso che abbiamo sia la poltrona che il batter Possiamo metterci a lavorare seriamente Seriamente è un parolone considerando dove sono sedute in questo momento Mettendoli a fianco capiamo subito che abbiamo un piccolissimo problema C'è una leggerissima differenza di altezza che è pari a circa 10 centimetri Ora non devo fare altro che costruire 4 prolunghe per i piedi della poltrona Ah, questo è 10, quindi 20 Deve essere l'aggiunta che ci andrò a fare Ok, d'accordo Adesso mi prendo le misure di 20 centimetri E mi taglio i piedini aggiuntivi Ragazzi mi raccomando Quando fate questi lavori, quando utilizzate molette o attrezzatura varia Mi raccomando sempre i guanti e gli occhiali protettivi Fate come me No, non fate come me Questa è l'ultima volta che taglio senza occhiali Promesso Questi piedi andranno fissati perché altrimenti questi vengono via Però per il momento mi interessa semplicemente capire se l'altezza è corretta Poi dopodiché farò un foro Qui ci metterò una vitarella, una pofilettante Per andare a stringere direttamente sul piede della poltrona Quindi quando lo trasporto, lo sollevo, non cadono Come in questo caso Ah, che bella poltrona alta Allora, vediamo la misura con il butter Adesso ci siamo Ci siamo Si è rotto Allora, adesso arriva la parte difficile Perché se andiamo a sbagliare adesso Compromettiamo totalmente la struttura della poltrona Adesso quando andrò a tagliare Devo stare attento a far sì che la poltrona comunque resti in piedi Perché se io taglio e la poltrona si deflagra In me che non si dica Mi resterà solo il mio fidato cessetto qui Che ormai fa da sgabello Adesso devo fare una misurazione tecnica Per capire a che altezza c'è l'orifizio Come devo chiamare per non Fatemi sapere sempre nei commenti Scrivete solamente o deretano Spinter Orifizio Guletto O culo Scrivete nei commenti Così se arriva qualcuno Senza vedere il video Apre i commenti Vede tutte queste cose qua Dice ma chi che è Quindi calcolando così e così Praticamente sono qui Allora Abbiamo visto il segno Ah ecco qui Così sappiamo che questo è il punto dove avverrà la magia Adesso misuro quanto è largo il batter 35x40 Da questo momento più nulla sarà come prima Soprattutto la poltrona che farò un buco nel centro Da questo momento non si torna più indietro Dovrò essere molto preciso Altrimenti il WC non entrerà correntemente E rischierò di rovinare tutto il progetto Tagliare una poltrona non è una cosa che si fa tutti i giorni Ma per la scienza e l'arte Ma soprattutto per la stupidità Questo è altro Allora dall'interno io non riesco a tagliare Perché in pratica non ho lo spazio Per poter mettere correttamente il seghetto alternativo Quindi l'unica cosa che posso fare È quella di tagliare da sotto Il foro è stato fatto Adesso dobbiamo vedere se riusciamo a far entrare il water dentro la poltrona È una frase che decontestualizzata non avrebbe alcun senso Vediamo se così Sì Sì No No rimane incastrato No Allora Credo che la cosa migliore sia quella di provare ad infilarlo da sotto Ragazzi Credo che sia la prima volta nella storia dell'umanità Che possiamo affermare che il water è entrato nella poltrona Guarda che bello Oh Andiamo Adesso ci vorrebbe solo un bel giornale Amici Prima di continuare Io Pronto? Dobbiamo procedere con i lavori Adesso è arrivato un altro punto critico del progetto Ora se in questo momento stanno guardando il video dei sarti o dei tappezzieri Ecco è giunto il momento di lasciare questo video Perché quello che probabilmente farò in questo momento sarà un'offesa all'intera categoria Perché non ho le competenze Però devo comunque ricavare un buco al centro di questo cuscino Io credo che una buona idea sia quella di utilizzare un trapano Per fare un primo foro così da capire dove devo andare a tagliare sia da sto lato che sotto Come voleva si dimostrare Non credo che taglierò a cerchio ma più farò tipo una croce Così da poter utilizzare i lembi di stoffa per richiudere un po' la spugna Non so cosa sto facendo di preciso in questo momento Quindi è tutta un'avventura, una scoperta continua Ho analizzato attentamente i fotogrammi della puntata dei Simpson E mi sono reso conto che Homer non è che fosse stato così preciso Infatti si vede che attraverso il foro del cuscino si vede la spugna Quindi mi atterrò al progetto originale Quindi con una forbice andrò a tagliare tutti i lembi in più inutili Che non ci servono Ma che precisione Se c'è qualche tappeziere o qualche sarto Che ha bisogno di qualcuno nel proprio hotelier Valuto proposte Mentre io continuo a lavorare sulla poltrona per portarla al termine Adesso sfumiamo in nero Perfetto E noi ci rivediamo direttamente quando la poltrona è pronta Che bella sfumatura in nero Il nero era proprio Era un nero proprio di quelli Di qualità Sì finalmente è giunto il momento di vedere il risultato finale Se nel passato stavi guardando la tv e dovevi fare un bisognin Dovevi alzarti e camminare fino al pagnin Era la cosa più difficile del mondo da fare Ma ora Con la poltrona e la toaletta reclinabile uomo pigro Puoi star comodo e fartela sotto Come tu vuoi In realtà questo è finto Amici il bello deve ancora venire Ora vi mostro tutti i lavori che ho fatto per ultimare la poltrona E poi ci concentriamo sul funzionamento Ho fatto i fori per facilitare l'inserimento delle viti autofilettanti E poi ho verniciato i piedini Visto che con i nuovi piedi la poltrona era molto più alta Ho realizzato una copertura utilizzando una vecchia coperta Così la poltrona sarebbe stata un po' più carina Per solo un euro ho acquistato quattro piedini in gomma Che erano un po' più grandi ma ho trovato una soluzione Per renderli della giusta misura Un portarotolo di carta igienica ha completato questa opera d'arte Ecco a voi il sogno di ogni pigro La domanda che tutti ci stiamo ponendo è Sì va bene ma funziona? Cioè se io lo metto nel salotto Sto guardando la tv Sabato sera con gli amici Sento un certo bisogno Posso utilizzarla? Amici? Certo che sì Allora amici io vi faccio vedere più da vicino tutti i dettagli Abbiamo la carta igienica Che chiaramente serve Posizionata nel modo corretto Cioè si tira Per così Sta gorgogliando È vivo È vivo Ho creato qualcosa di vivo E adesso la proviamo Mentre prendo la carta igienica Per mostrarvi come funziona Com'è è possibile utilizzare la poltrona uomo pigro Vi ricordo di farmi sapere in assoluto cosa ne pensate di questo progetto Di questo video Datemi i vostri feedback Fatevi sapere se secondo voi si può migliorare con qualche altro accessorio Sarebbe divertente vedere Che cosa vorreste vedere montato su questa poltrona Vi faccio vedere come funziona Quindi immaginiamo di aver finito di fare i nostri bisogni Come facciamo? A mandare via tutto? Semplicissimo Sotto la poltrona abbiamo Abbiamo una comoda maniglia Tirate la maniglia Allora signori ecco come si fa E ma voi potreste dirmi Eh sì ma se c'è qualcosa di più grosso E più solido come facciamo a mandarlo via? Faccio vedere Immaginiamo di avere qualcosa di più grosso Noi dobbiamo mandarlo via Non vuole andare via E allora come facciamo? Ci aiutiamo con lo scarico Eccolo qui Poi andate di sciacquone E guardate un po' che succede Dopodiché tiriamo la maniglia Eccola qui la maniglia Se non mi sono neanche bagnato il culo Mi sono bagnato il culo Non riesco a vederli Se non mi sono neanche bagnato il culo E cioè Di cosa È meraviglioso Se invece mi sono bagnato il culo Fate anche il video Sono tutte funzionalità in divenire Questa poltrona è viva Cresce Si evolve Amici che progetto è stato questa poltrona E funziona pure Ora Qualcuno di voi potrebbe obiettare Sul fatto che manca la tavoletta Per chiudere Davvero mi stai dicendo Che dopo aver cagato Mentre guardavi negli occhi I tuoi amici o i tuoi familiari L'unico problema secondo te È il fatto che manchi la tavoletta Ok Ci vediamo al prossimo video